Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Viella dal titolo Reti Italiche, spazi e relazioni politiche da Roma alle Alpi, nei tempi di Dante, 1260-1330, a cura di Pierluigi Terenzi, Andrea Zorzi e Enrico Faini, che abbiamo il grande piacere di avere mostro a me di Torna, e al quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante volume. Prego Enrico, a te. Grazie mille innanzitutto per questo invito a parlare di questo volume, che è, come dichiarato sostanzialmente fin dall'inizio, una raccolta di tanti saggi diversi. In ultima analisi si tratta di un gruppo di lavoro che si è formato da qualche anno attorno a un'intuizione, sostanzialmente che la storia delle città non finisca con le mura delle città. È un'idea dalla quale possono nascere tante altre idee, diciamo così, come in effetti è successo nella confezione di questo saggio, che è nato qualche anno prima come concezione del fatidico settecentenario della morte di Dante. E quindi, mescolando un po' di considerazioni, il nostro interesse storico per l'età comunale e, naturalmente, la vita di Dante, è nata, come dire, l'intenzione di approfondire un po' la storia delle città fuori dalla città, attorno alla vita di Dante. Quindi, inizialmente, è nato come un convegno che doveva tenersi in presenza, ma, ahimè, causa pandemia, si è tenuto a distanza. Beh, la cosa ha avuto dei riflessi paradossalmente positivi, perché, come probabilmente alcuni dei lettori di questo saggio già sanno, esiste una versione online di quel convegno che è stata partecipatissima. Addirittura più di mille, forse addirittura a questo punto duemila visioni, che è tantissimo per un convegno, tutto sommato, insomma, di storia politica. Però questa partecipazione ha anche significato un pochino una revisione dell'idea iniziale che portavamo avanti. Si trattava di individuare, diciamo, anche un po' i contesti di vita di Dante. E beh, siamo andati un po' oltre quello, tanto che abbiamo pensato di rivedere tutto, invitare nuovi studiosi e riconfigurare quello che all'inizio era un convegno legato al settecentenario dantesco, in un volume saggio che invece ripensava la politica dei tempi di Dante. Questa è un po' l'aspirazione. E vediamo se i nostri lettori gradiranno il cambiamento. Beh, è ambizioso come progetto, anche perché spazia molto, in un arco temporale abbastanza ridotto, che al tempo di Dante è quantificato già il titolo, però attraverso parecchie realtà italiane. È vero. Allora, specifichiamo due questioni. Da una parte, che senso ha limitarsi alla vita di Dante quando, in fin dei conti, si vuole fare un convegno di storia e non un convegno biografico su Dante? Allora, la vita di Dante in realtà ha una caratteristica storica non banale. Coincide in gran parte con quello che tra gli studiosi è noto come il grande interregno. Quando si studia la storia delle città italiane, infatti, e si studiano i comuni, si dice spesso che sono entità indipendenti. In realtà non lo sono affatto, sono parte di una realtà più grande che è l'impero e addirittura di una realtà, diciamo, che sta all'interno dell'impero che è il regno d'Italia. Ecco, in quel momento, durante la vita di Dante, tra il 1265 e gli anni 20 del 300, l'imperatore c'è e non c'è. Il grande interregno è quello che va dalla morte del figlio di Federico II, Corrado IV, 1254, fino, in teoria, alla presa del potere, anche se abbastanza, come dire, così incerta, degli imperatori che si succedono tra la fine del 200 e Ludovico il Bavaro, 1328. Ecco, in realtà, in questo momento, mancando una figura che è in grado di tenere le redini dell'impero e del regno, le città hanno uno sviluppo che può apparire, in realtà, come uno sviluppo indipendente. In realtà non è esattamente così. E poi bisogna dire che in questa fase di lungo interregno ci sono delle figure che però catturano l'attenzione dei contemporanei e per qualche minuto, qualche anno, sembrano far rivivere i fasti dell'impero. Tra queste, naturalmente, l'alto arrigo Enrico VII, che diventa una figura che in qualche misura illude Dante. Ecco, di questo si parla all'interno del nostro testo e questa è un po' la spiegazione che rende possibile interpretare una cronologia individuale, come la vita di Dante, in un'ottica più generale, la storia delle città in quella fase. Secondo punto, quando parliamo di città italiane, in questo convegno, che è poi diventato questo volume, non si parla di tutta l'Italia, però. Si parla di quell'Italia che faceva parte del regno italico e che, in realtà, faceva parte dell'impero, quindi fino a Roma, fino alle entità territoriali che anche sono controllate da Roma in questa fase, quindi l'Italia centrale, il Lazio, l'Umbria, le Marche, la Romagna e l'Italia centrosettentrionale, il resto dell'Italia centrosettentrionale. L'ambizione, naturalmente, sarebbe quella di estendere il progetto anche all'Italia meridionale, cosa che in effetti nella concezione politica di Dante c'è. L'idea, cioè, è che l'Italia non si risolva soltanto nel regno d'Italia o nell'Italia, diciamo così, imperiale, ma che rappresenta una comunità culturale che raccoglie anche l'Italia del Sud, quella che in quel momento è, nel momento della vita di Dante, il regno di Sicilia e il regno di Napoli. Entriamo un po' nel merito dei contributi e anche dei partecipanti a questa avventura, così capiamo ancora meglio. I partecipanti a questa avventura hanno una caratteristica che li accomuna, diciamo. nel momento in cui noi abbiamo deciso di partire con il nostro progetto, abbiamo scelto di puntare sui più giovani, quelli che ancora non erano in quella fase lì, poi per fortuna alcuni di loro ci sono riusciti, non erano ancora strutturati nell'università. In effetti io, che in quel momento ero l'unico strutturato, non faccio parte del convegno, ho scritto una parte dell'introduzione insieme a Pierluigi Terenzi, ma io non ho portato nessun contributo e questo non è un caso, proprio perché era una scelta programmatica. Quindi questo è già un elemento di partenza. Abbiamo a che fare con studiosi giovani che però hanno la caratteristica di aver quasi sempre svolto la loro tesi di dottorato proprio sulle aree territoriali delle quali chiedevamo di parlare. In realtà, come dicevo, alcuni di loro poi sono entrati in università, altri no, ma comunque stanno continuando a lavorare e è stato chiesto a questi studiosi di andare oltre quegli steccati cittadini che troppo spesso, a nostro avviso, ancora oggi caratterizzano lo studio di quella che noi chiamiamo Italia Comunale. Infatti abbiamo scelto di lavorare, a far lavorare anche i nostri collaboratori, sulla base di ambiti regionali. Quindi non solo Firenze, Bologna, Perugia, Milano, Genova, ma i contesti regionali entro i quali queste grandi città, spesso ben studiate dal punto di vista storico. Ecco, stavano. In questo senso abbiamo avuto anche numerosi aiuti, insomma, perché poi chiaramente questo lavoro, questo cantiere è andato avanti per qualche anno e dunque abbiamo i nostri collaboratori, i nostri studiosi hanno avuto modo di confrontarsi anche non solo con quelli che all'epoca del convegno sono stati discussanti, cioè diciamo coloro che hanno discusso in pubblico le loro tesi e che voglio ricordarlo sono Amedeo Di Vincentis, autore tra l'altro di un volume recentissimo, l'Italia di Dante con la Ypsilon, quindi davvero molto in dialogo con questa prospettiva. Jean-Claude Mervigueur, studioso come noto non solo di quella fase storica, ma certamente uno dei maggiori studiosi di storia comunale. E poi la finezza di Gian Maria Varanini, che ci ha permesso molto spesso di scendere nel concreto della dialettica politica delle città dell'Italia centrosettentrionale. E questo è uno, è un altro degli elementi, diciamo così, originali della nostra prospettiva. Ma chiedo a te Maurizio se è il caso che io continui a parlarne così o se hai altre curiosità. Beh sì ne ho molte, ma secondo me completerei questa panoramica dei contributi che arricchiscono il saggio e poi magari facciamo qualche altro domani. Dunque come ti stavo dicendo siamo partiti da una serie di studi, i nostri collaboratori sono partiti da una serie di studi che fondamentalmente sono cittadini, locali. Quindi non credo di doverti fare l'elenco di tutti coloro che hanno scritto, no? Ecco quindi diciamo così su questa base ci siamo poi mossi a una, su una prospettiva più regionale. Io non vorrei fare dei nomi e ti dico subito perché rischierei di dimenticare in questo momento qualcuno e sarebbe cosa brutta e nello stesso tempo forse toglierei al lettore il gusto di andarsi a guardare almeno l'indice di questo volume che è ricchissimo. Almeno però la prospettiva territoriale posso enumerartela, posso elencartela, no? Ecco si va dalla, ecco con qualche eccezione della quale magari poi parlerò. Si va, permettimi di partire da quella che è la mia patria di elezione ovvero il nord-est, sebbene io sia fiorentino d'origine, ecco dal nord-est dalla marca trevigiano-veronese ci si sposta poi sulla nord-ovest con vari contributi dedicati alla lombardia storica e due contributi dedicati al Piemonte, aree che di dantesco in realtà non hanno moltissimo ma che però hanno un impatto fondamentale per lo studio della società e della politica dell'Italia comunale di questa fase storica. Si scende poi a Genova che ha il singolare pregio barra difetto di essere la città meno locale, forse solo dopo Roma tra quelle che abbiamo indagato, ma che ha anche, ripeto, il pregio di essere la meno locale, anche il difetto di essere stata studiato spesso dal punto di vista della sua grande espansione mediterranea e invece il contributo, non faccio nomi naturalmente, che troverete voi lettori all'interno di questo di questo volume è un contributo che si basa soprattutto sull'espansione regionale di Genova, cioè la costituzione diciamo del suo spazio, oggi diremmo la Liguria, ma è una definizione davvero anacronistica. Ci si prosegue poi su questa altezza diciamo con l'Emilia e la Romagna e poi si scende alla Toscana alla quale sono dedicati due contributi per poi passare a quelle che sono le terre dell'Italia centrale, la Marca, le Marche e l'Umbria, il patrimonio, quindi il Ducato di Spolieta, il patrimonio e con un saggio poi dedicato anche alla città di Roma che ha come noto una proiezione ben superiore a quella diciamo della città, però come Genova anche Roma ha la caratteristica di essere stata studiata molto a lungo, fino almeno allo studio di Jean-Claude Merviger su Roma di una decina d'anni fa, uscita una decina d'anni fa, come una città non città, che ha un valore e una proiezione che va ben al di là delle mura comunali, chiamiamole così, non sono le mura comunali naturalmente, sono le mura della Roma antica ma che poi determinano anche la dimensione urbana della Roma comunale. Ecco, questa è l'elencazione dello spazio che abbiamo preso in considerazione. Ripeto, resta il rammarico di non esserci potuti allungare fino all'Italia meridionale naturalmente esistono dei problemi, insomma anche di risorse, che però speriamo di superare a breve, perché la prospettiva non si limita all'Italia comunale in senso stretto, avrebbe l'ambizione di indagare le città da fuori e da dentro anche per l'Italia meridionale. è un ottimo obiettivo, perché in effetti completerebbe il quadro di questa idea di un'Italia di Dante, quindi non solo i luoghi da lui visitati, frequentati, abitati dove si è trovato a operare, ma anche quella che era la sua idea di un paese di tipo unitario, concetto oggi poi quanto mai in attualità nella politica quotidiana. Quindi direi che questo è un lavoro di grande pregio e io ovviamente consiglio a tutti i nostri utenti di acquistare e di correre le librerie, a questo scopo ricordo il titolo, in modo che non si possano sbagliare, è Reti Italiche, spazi e relazioni politiche da Roma alle Alpi nei tempi di Dante, a cura di Enrico Faini, Pierluigi Terenzi e Andrea Zorzi, appena pubblicato da Viella, che peraltro consente l'acquisto online con lo sconto del 5%, che è quello abitualmente a disposizione degli editori. Io ti ringrazio tantissimo per l'esposizione e spero di rivederti presto con l'Italia meridionale e insulare. Grazie ancora. Grazie mille, grazie ancora Maurizio, buon lavoro. Grazie mille, grazie a tutti.